Un saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv, Pierpaolo Segneri, penso che mi conoscano e qui il mio libro, il mio primo libro di poesie, Alba di Sogni, oggi è il 3 maggio 2019, è il mio compleanno e voglio festeggiare così la mia uscita del libro con la prima presentazione ufficiale del mio primo libro di poesie. Chi ho accanto? Ho accanto Arsenio Maria Navarra, è il fotografo ufficiale di questa serata. E allora, prima di iniziare, visto che stiamo scaldando i motori e parleremo molto di poesie corsare, volevo chiedere ad Arsenio, qual è un po' il tuo punto di vista stilistico, fotografico, che utilizzerai per questa serata, evento, compleanno? Bella domanda, innanzitutto ciao a tutti, auguri, buon compleanno. Grazie, grazie di avermi reso partecipe di questo evento. Cosa farò? Cercherò di, come poi tu mi hai chiesto, di cogliere i momenti salienti nelle espressioni più che altro delle persone, di voi che parlerete, di tutte le persone qua che ti ascolteranno, cercare di vedere quando colpiscono alcune delle tue parole, delle tue poesie, quando colpiscono i loro sentimenti, cosa riescono a esprimere, e vediamo se riesco a cogliere le immagini per poi, ovviamente, per poi dartele. Senti, ovviamente io qua parlo di corsari, no? Perché i corsari sono un po' la metafora, la similitudine della libertà, no? E dico, ci sono anche i corsari di oggi. Tu, in un certo qualsenso, in questo momento della tua vita, in questo mondo, così come lo senti in questo frangente, ti senti un po' corsaro? Beh, se per corsari, intendiamo sì, essere liberi di fare ciò che si vuole, assolutamente sì. Quanto conta per te, diciamo dal punto di vista fotografico, il primo piano, il ritratto? Beh, tanto, non è, diciamo, l'unica cosa fondamentale o primaria, sempre, però è fondamentale in determinate situazioni, in una situazione come quella di oggi assolutamente lo può essere. e poi dipende anche sempre da cosa, da chi ho di fronte. Può esserci una persona che mi ispira a un primo piano, un'altra persona che mi ispira a qualcos'altro, anche un particolare, un close-up su qualche elemento del suo viso, dipende dalla situazione, però sì, primo piano comunque sia fondamentale. E secondo te, per la fotografia, sì, sono spesso protagonisti gli uomini, le donne, le persone, i bambini, ma può essere protagonista anche qualcosa di inanimato come un libro? Cioè, un libro può diventare il protagonista di una foto, secondo te? Assolutamente sì. Ho cominciato a fare foto tanti anni fa facendo foto a oggetti. Il libro, in questo caso, è un oggetto che poi raccoglie dentro di sé molto di più che l'essenza in sé di essere oggetto, però sì, assolutamente sì, può essere il protagonista di una storia ed in questo caso fotografia. Allora, ringrazio i telespettatori di Liberi.tv, alla prossima intervista, ringraziamo Arsenio Maria Navarra e alla prossima.